Come veterinario di questa azienda, io sono deputato alle diagnosi di gravidanza mediante palpazione, che raggiungo sui 34-35 giorni nelle vacche come minimo e 32 giorni nelle manze. Rispetto al test di cui stiamo parlando ora, che ci consente di fare sui 28 giorni di diagnosi di gravidanza, sono parecchi giorni risparmiati. In più questo test viene utilizzato quando non riesco a fare una diagnosi di gravidanza per aderenze o uteri profondi e invece in questo modo ho la sicurezza, oppure quando ho bisogno di un'immediatezza perché non sono presente e un animale va venduto, facciamo il test e otteniamo il risultato.